Dovete perdonare e amare tutti. 22 giugno 1973 Figli di Letti, quanto mi è caro questo incontro con voi, e quanto godo di rivolgervi la mia parola per mezzo di questo mio strumento. Vorrei dirvi tante cose sante e darvi tante grazie. 23. Desidero soprattutto preparare il vostro cuore alla celebrazione del Giubileo, perché la vostra anima, purificata da ogni benché piccola macchia, possa apparire davanti a Dio come apparve il giorno in cui sopra il vostro capo, scese l'acqua lustrale del Santo Battesimo. Sì, figli, vi dovete preparare a ricevere questo grande dono. 23. Anzitutto dovete eccitare l'animo vostro ad un grande dolore delle colpe commesse. 24. Ogni uomo semina la propria esistenza di male, mali piccoli e gravi che feriscono il cuore di Dio, non già perché a lui ne venga un danno, ma per il danno che ne viene all'uomo stesso, che egli ha creato perché fosse felice in questa vita e nell'altra. 25. Di questi peccati che macchiano l'anima e rendono meno graditi a Dio, anche se egli nella sua bontà infinita continua ad amare gli uomini e a condurli a salvezza, occorre pentirsi, umiliarsi e chiedere perdono. 26. Ma, figli, vi è una condizione indispensabile per ottenere il perdono da Dio, ed è quella che a vostra volta voi abbiate a perdonare a tutti coloro che nel corso della vostra vita, vi abbiano in qualsiasi modo offeso o danneggiato. 27. Vi è stato detto nell'Antico Testamento che dovete amare gli amici e odiare i nemici. Ma il mio Gesù vi ha parlato assai chiaramente. 28. Vi ha detto, se voi amate solo coloro che vi amano, quale merito ne avrete? Amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi perseguitano. 29. Questo desidero da voi, figli tanto cari al mio cuore. Dovete perdonare e amare tutti. Il mondo va male perché si è dimenticato della legge di Dio, basata soprattutto sul precetto della carità. 29. Ecco che io vi mando nelle vostre famiglie, nella società e nella chiesa con una scintilla di quel fuoco che parte dal mio cuore e vi dico, portate l'amore. 30. Siate portatori d'amore, di un amore che si manifesti nelle opere e si compie nel dono della pace a tutti coloro che vi vivono accanto. 31. Voi avete dei congiunti che forse vi dimenticano e non intendono allacciare con voi rapporti di bontà e d'amore. 31. Siate voi ad andare alla ricerca di essi. Fate il primo passo, ma ritorni la pace fra voi e i vostri familiari. 32. Non ha detto il mio Gesù, se stai portando la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, 32. Lascia lì, l'offerta, davanti all'altare, e vai a rappacificarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. 33. Così sia per tutti coloro che considerate vostri nemici. 34. Un cristiano vero non può avere nemici. 35. Sono persone che non sanno probabilmente ciò che fanno, come non sapevano ciò che facevano coloro che alla croce 36. Figli, portate ovunque l'amore, coltivatelo nel vostro cuore come una fiamma che non deve mai spegnersi. 36. Amate Dio sopra ogni cosa, poiché Egli per primo ha amato voi e non desidera da voi che di essere amato. 37. Il vostro amore di Dio non sia un amore fatto solo di sentimento, ma sia l'adesione della vostra volontà alla sua, 38. Perché solo così vi santificherete. 38. Figli di Letti, mentre vi prometto di essere presente nelle vostre case ogni volta che mi invoccherete con la preghiera, 39. Benedico questo cenacolo tanto caro al mio cuore. 40. La diffusione della parola di Dio, quella del volto del mio Gesù e con essa la fiducia nella misericordia di Dio, 41. Sono un compito così grande e così prezioso che non può mancare di una benedizione speciale, che sia anche di incoraggiamento. 41. Benedico i bambini e i giovani presenti. 42. Benedico in particolare ciascuno di voi, appoggiando il vostro capo sul mio cuore. 42. Voi non mi vedete, ma la vostra fede è più meritevole e preziosa. 43. Venite, vi chiamo per nome. Portate la mia benedizione ai vostri malati e ai vostri cari. 44. Vedrete quanta gioia procurerete ad essi. 45. Arrivederci, figli. 46. Ogni volta che vi riunite qui io sono con voi per darvi aiuto e consolazione.